Oggi ho deciso di cucinare al forno le mazze di tamburo ripiene con carne e patate. Sulla carne io usavo una precottura. Ho usato due spicchi di aglio che ho prima scamiciato e poi tagliato a pezzettini. Stessa cosa l'ho fatta con una cipolla. Questa è una di quelle bianche, essa già pulita, pesa 166 grammi. L'aglio, se vuoi saperlo, pesa 8 grammi. All'interno della pentola ho messo anche 4 cucchiai di olio e una noce di burro. E 100 grammi di guanciale affumicato. Si deve sciogliere un po' il grassetto e diventare comunque traslucido. Poi all'interno della padella metti anche l'aglio e la cipolla. Mescola di continuo e soffriggi per circa una quindicina di minuti. Comunque quando vedi che la cipolla si è soffritta, metti nella pentola o padella il macinato. Vedi? Sono 430 grammi che devono cuocere per una trentina di minuti. Io ho messo metà bricca di quelli piccoli di vino rosso, quindi circa 150 grammi. Poi il tutto devi cuocere, devi lasciare cuocere. Intanto metti 3 mestoli di acqua e del brodo vegetale. Io utilizzo quello in polvere. Ci vediamo tra mezz'ora. Eccoci, per me è già passata mezz'ora. Ora vado ad aggiungere della pasta di salsiccia che vado a rompere e spezzettare. Questa è una confezione intera, saranno circa 300 grammi. Dopo altri 20 minuti di cottura non ho aggiunto l'acqua, semplicemente ho fatto arrostire il tutto. Io ho lessato 450 grammi di patate al microonde. Io le vado a tagliare a metà e le schiaccio con lo schiacciapatate, così esce la polpa e la buccia rimane nell'attrezzo e la si può levare via facilmente. Io assieme alla polpa delle patate ho messo 300 grammi di carne. L'altra l'ho utilizzata per condire gli spaghetti. Dopo una mescolata ho messo sale, noce moscata e un uovo intero. Dopo aver mescolato ho messo 30 grammi di formaggio grattugiato, ho usato il pecorino. Il ripieno è pronto. Devi mettere solo un po' di olio nella pirofila da forno e cominciare a farcire le mazze di tamburo. Le devi riempire e mettere nella teglia. Ovviamente le mazze di tamburo sono già state lavate ed è meglio utilizzarle quando le mazze non si sono completamente aperte al 100%. L'importante è che tu risca a riconoscere le mazze di tamburo buone da quelle matte, in modo da scartare quest'ultime. Non essendo completamente aperte possono accogliere meglio il ripieno. Sopra i funghi ho messo un altro filo di olio, comunque i funghi devi cucinarli in forno preriscaldato a 180 gradi fino a che le mazze di tamburo ripiene si sono cotte. Ricetta terminata, buon appetito, ciao! Io ho usato due spicchi di aglio che ho prima scamiciato e poi tagliato a pezzettini. Stessa cosa l'ho fatta con una cipolla di quelle bianche, essa già pulita, pesa 166 grammi. L'aglio, se vuoi saperlo, pesa 8 grammi. All'interno della pentola ho messo 4 cucchiai di olio e una noce di burro e 100 grammi di guanciale affumicato. Il guanciale si deve sciogliere un po' il grassetto. Si deve sciogliere un po' il grassetto e poi all'interno della padella metti anche l'aglio e la cipolla. Mescola di continuo e soffriggi per circa una quindicina di minuti. Comunque, quando vedi che la cipolla si è soffritta, metti nella pentola il macinato. Sono 430 grammi di carne macinata che deve cuocere per 30 minuti. Io ho messo metà brick di quelli piccoli di vino rosso, circa 150 grammi. Lascia cuocere, intanto metti 3 mestoli di acqua e del brodo vegetale. Ci vediamo tra mezz'ora. Eccoci, per me è passata mezz'ora. Ora vado ad aggiungere della pasta di salsiccia che vado a rompere a pezzettini. Con il cucchiaio di legno e una confezione intera. Dopo altri 20 minuti di cottura, io non ho aggiunto l'acqua, semplicemente ho fatto arrostire la carne, il ragù. Poi puoi mettere all'interno della padella gli spaghetti al dente. E' un macchino.